Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai drop. E per la prima volta dopo tanto tempo arrivo a puntuale, al martedì, dove insieme al reset settimanale vi porto anche quella che è stata la mia settimana in termini di drop. E le attività che ho svolto negli ultimi sette giorni sono legate strettamente ad Osiride. O per meglio dire, tutto ciò che ho ottenuto l'ho ottenuto mentre giocavo ad Osiride, completando tutte le taglie il venerdì. La domenica ho completato nuovamente la taglia della serie argento o oro, non mi ricordo, quella che può essere completata tutti i giorni. Sono salito di livello con il crogiolo, col culto guerra futura e naturalmente il box, il tesoro pregiato che mi viene dato dall'amministratrice. Quindi senza indugiare oltre andiamo a scoprire subito quali sono questi drop. Essenzialmente da Osiride non ho droppato granché. Al venerdì un promontorio di vetro peggiore di quello che già avevo, usato naturalmente per infondere qualche altra arma. E la domenica una stella di mare, usata per infondere la mia bellissima dottrina del passaggio affinata. In tutta onestà la gioia più grande in questo Osiride è stato droppare altri shader che ancora mi mancavano. Shader penso del crogiolo, che però non avevo mai trovato. Andando oltre vi ho detto che sono salito di grado con il crogiolo e col culto guerra futura. Con il primo ho droppato il cecchino, quello col nome Tao Wai Wan, qualcosa del genere che non riesco ancora a pronunciare e che non mi ricordo a memoria. In ogni caso, arma che io disprezzo con tutto me stesso non mi è mai piaciuta e pertanto l'ho usata per infondere qualcos'altro. Mentre dal culto guerra futura ho trovato la ovacuità, il loro fucile a fusione. Però sono stato più felice di droppare uno degli emblemi che ancora mi mancavano. Francamente mi ha reso molto più felice quel drop. E infine arriviamo al tesoro pregiato, uno solo, non ho avuto tempo di ottenere gli altri due. E tanto per farci una risata ho trovato l'ennesimo pezzo del set Spectre per il mio cacciatore che già possiedevo. Però almeno a questo giro, insieme a questo pezzo d'armatura inutile che già possedevo, ho trovato anche la seconda nave che si può trovare nei tesori pregiati. Nave non troppo bella esteticamente, preferisco sempre quella mia corrotta, ma è sempre meglio che niente, si aggiunge semplicemente alla collezione. E per quanto riguarda i miei drop è tutto qui. E i vostri? Vi invito a farmeli sapere con un commento qui sotto. Per quanto riguarda i drop settimanali da parte mia è tutto. Con questo appuntamento noi ci sentiamo settimana prossima. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a lasciare il vostro feedback, iscrivervi se non l'aveste ancora fatto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!